Quali sono gli otto tipi di vomito? Te ne mostro subito quattro se mi fai un'altra domanda per l'esame. Ehi, l'hai detto tu che volevi un rompipalle? No, l'ha detto House. L'ho secondato per togliermelo dai piedi. Ti ho scelto perché volevo uno che detesta essere coinvolto nei problemi degli altri. Credevo volessi risparmiarti l'enorme umiliazione di essere licenziato. E mi tratti come un imbecille? Stavolta andrà bene. Ho superato a pieni voti il mio primo esame di patologia. La medicina ha fatto progressi negli ultimi cento anni? Beh, io so che c'è un tale che conosce un tale che può avere i test dell'esame in anticipo. L'ho sentito dire. La paziente ha perso peso con una nuova dieta, giusto? Sì, è diventata vegana. I lassativi sono vegani? Pronto? Dove sei? Nel nostro garage perquisisco la macchina di Wilson. Abbiamo una risposta a intossicazione da magnesio. Abbiamo trovato molti lassativi. L'abuso può causare ipermagnese mia. Devo ammettere che è un'ipotesi stupendamente fuori dagli schemi. Ah. House? Sei ancora lì, House? Va tutto bene? No. Per un attimo ho pensato che Wilson avesse problemi di droga. E invece è molto, molto peggio. Ok. Ehm, allora le diamo dei liquidi e aspettiamo che li elimini con le urine? Aspetterete un bel pezzo perché non è quello che ha. Pressione e frequenza respiratoria nella norma. Mentre eravate occupati a pensare fuori dagli schemi, vi è sfuggito il vero problema. Chase e Masters hanno finito. Grazie a tutti.